Al Civitelli finisce con un pareggio il terzo consecutivo per i padroni di casa tra l'Olimpia agnonese e l'Avezzano Calcio. Una partita piuttosto equilibrata anche se Granata hanno avuto molte più occasioni degli avversari. Ma andiamo alla cronaca. Il fischio d'inizio coincide con la prima occasionissima per i ragazzi di Mister Foglia Manzillo. C'è Lamin per Sorgente che ci prova dal cuore dell'area ma Fanti con la punta delle dita manda in corner. Al sedicesimo è sempre Lamin a farsi insidioso con un tiro rasoterra che va fuori di un soffio. L'Avezzano si fa vedere solo al ventesimo minuto con un tiro di Deramo dal vertice dell'area che Venturini è bravo a deviare in corner. Al ventisettesimo arriva la svolta. Cerone servito da Schirone è libero dagli avversari imbambolati di insaccare indisturbato la rete dell'1-0. L'Agnone però non si lascia intimorire più di tanto e al 46esimo pareggia i conti così con Sorgente che tira proprio addosso a Fanti. Il numero 1 Abruzzese respinge e la sfera sulla ribattuta finisce tra i piedi di Gentile che è pronto ad insaccare il gol dell'1-1 finale. Con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa. L'Avezzano sembra deciso ad allungare le distanze. Al quarto minuto ci prova Deramo dalla sinistra. La palla è fuori di poco. Al tredicesimo è Pellecchia da fuori area che non inquadra lo specchio della porta. Al ventiduesimo ancora Deramo protagonista con un tiro dal limite dell'area che va alto. L'Agnone che fino a quel momento sembra soffrire le incursioni abruzzesi tenta di reagire. Al ventitreesimo c'è De Zai per la Min che non riesce a trovare la conclusione per pochissimo. Un minuto dopo con un'azione fotocopia Fanti è bravo a parare. Al trentaduesimo il neo entrato Basilio Antonelli dal limite dell'area sfiora la traversa. Al trentanovesimo è scontro in area tra Niang e Besana. I due in un impatto piuttosto violento riportano ferite alla testa che necessitano di punti di sutura per cui si decide di ricorrere alle cure mediche ospedaliere del vicino Caracciolo e i due ragazzi vengono portati via in ambulanza. L'incontro si chiude con questa azione pericolosa di Conti al cinquantesimo che sgancia un bolide ma Venturini è pronto a tuffarsi. Ancora un pareggio dunque per l'Olimpia agnonese che deve assolutamente recuperare qualche punto in più per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. Per l'Avezzano che la classifica la deve comunque smuovere per recuperare i punti di penalizzazione con cui è partito in questo campionato è comunque un punto d'oro.